Oggi presentiamo la 24esima edizione sull'indagine della spesa delle famiglie. Rispetto al 2019 questa spesa si contrae quasi il 5% e abbiamo il minimo da oltre 10 anni per la spesa non alimentare. Quindi ovviamente la pandemia ha influito sul consumo delle famiglie. C'è ovviamente una grande crescita dell'e-commerce, del cibo d'asporto e quindi di quello che è il consumo all'interno delle nostre abitazioni attraverso l'e-commerce. Una riduzione dell'abbigliamento per esempio oppure un aumento delle spese per la cura alle persone. Il dato anche importante è che questo reddito che non è stato speso in certi casi nelle fasce di famiglia più ad alto reddito crea un aumento del risparmio. Invece ci sono alcune famiglie che denunciano una difficoltà di poter spendere quindi una minore disponibilità di reddito e anche quindi intaccare i propri risparmi di famiglia. Quindi forse si sta mettendo in evidenza una crisi di alcune fasce di famiglie che hanno più difficoltà e questo è un segnale da cogliere. Sicuramente il modello di consumo è cambiato e probabilmente questo cambiamento è talmente strutturale che continuerà nei prossimi mesi anche con la riapertura. Questo è un grande segnale a chi ovviamente ha gli operatori che dovranno comunque essere attrezzati e preparati per il loro modo di lavorare che sta cambiando.